Iniziamo questo nostro viaggio a cinque anni dall'alluvione del 2011, qui a Vernazza siamo alle Cinque Terre, è stato uno dei comuni più colpito da quel evento catastrofico. Quanto è stato fatto in questi cinque anni? Ebbè, è stato fatto, qualcosa è stato fatto, ma qualcosa resta ancora da fare. Abbiamo fatto gli interventi urgenti, adesso stiamo ancora lavorando su delle frane, con dei finanziamenti, all'inizio del paese, stiamo mettendo a posto una zona che durante l'alluvione praticamente è completamente franata. Stiamo progettando l'allargamento del canale, siamo in attesa della produzione di questo nuovo progetto che poi dovrà essere finanziato e stiamo lavorando su un piano del canale di messa in sicurezza. Il 26 ottobre 2011, qual era la conta dei danni e quanto è stato fatto? Beh, la conta dei danni era devastante, avevamo diversi milioni contabilizzati in danni ad attività, in danni a privati. La ferita più grande è e rimane in parte quella sull'aspetto idrogeologico, sui versanti, versanti collinari, le reti di comunicazione viarie che anche al momento adesso sono comunque agibili sicuramente, però limitate. Abbiamo ad esempio la provinciale che va verso Feggina che è continuamente oggetto di difficoltà nel passaggio. Siamo in Val di Vara, a Pignone, con il vice sindaco di Pignone, Rinaldo Pellistri. Sono passati cinque anni dall'alluvione del 2011. Qual era la conta dei danni che era stata appunto stimata? La conta dei danni stimata è sui 10 milioni di euro. Quello che possiamo dire, a parte sono stati realizzati, però penso che alla conta ne mancano ancora un 2 milioni. Se ben ricordo, non solo io, ma penso che nella visione di tutta la popolazione e anche di voi giornalisti, il territorio di Pignone si presentava nel suo complesso tutto distrutto, sia le parti di valle che le parti di montagna. Noi abbiamo avuto nello suo territorio non solo l'abitato di Pignone colpito, ma l'abitato di Casale e l'abitato di Villa.